Amici di FanoTV, ben trovati. Nuovo appuntamento dedicato ad impronte femminili, la rassegna di arte, cultura e narrativa per le pari opportunità e i diritti umani. Il terzo appuntamento di questa quarta edizione io lo definirei un esperimento ben riuscito, quello del dialogo tra i territori e naturalmente le donne, molteplici donne, oltre 60 le ospiti di questa edizione sia in ambito locale sia a livello nazionale ed internazionale e altro non poteva essere se non una donna, la curatrice di questa rassegna, l'assessora alle pari opportunità del comune di Fano, Sara Cocchiarini, buonasera. Buonasera Maria Elena e buonasera a chi ci sta seguendo. Abbiamo deciso di sfogliare insieme il calendario ricco di appuntamenti, quello di maggio, ancora una volta appuntamenti online. Sono gli ultimi quattro appuntamenti online di questo primo ciclo di appuntamenti online di impronte femminili, sono quattro appuntamenti molto interessanti, uno a settimana, quindi direi che partiamo con il primo, dedicato comunque a un approfondimento di grande attualità e di cui si parla forse anche troppo poco, che è appunto il tema del ghosting e dello stalking online. Lo facciamo con la dottoressa Arianna Di Carlo dell'Associazione Giunone. Buonasera dottoressa. Buonasera, buonasera a voi. Allora, l'Associazione Giunone è un'associazione di giovani donne, per le donne non solo, per tutta la famiglia. Quando nasce, perché sappiamo che nasce in un momento particolare, insomma se ci racconta un po' la storia di Giunone. Sì, grazie. Allora, Giunone nasce anno scorso, ci siamo costituite proprio un mese prima dell'inizio della pandemia, quindi non ci aspettavamo di dover affrontare questo anno così e devo dire che ad oggi ci possiamo considerare coraggiose per aver istituito Giunone. La nostra associazione, come dicevi giustamente Mariellena, è composta da donne, donne che hanno, mettono a disposizione la loro professionalità per il volontariato sociale. Tra le varie professionalità siamo psicologhe, psicoterapeute, abbiamo assistenti sociali, abbiamo avvocate e siamo mosse dalla voglia di aiutare chi è più in difficoltà. Penso per esempio alle donne, alle coppie, ai singoli individui, alle famiglie. Proprio come è la radice del nostro nome, Giunone, che era la dea dell'antichità, che proteggeva la maternità, il femminile, poi lo Stato, la famiglia, vogliamo cercare di dare un servizio di sostegno alla famiglia e lo facciamo attraverso uno sportello di ascolto. Ad oggi purtroppo lo possiamo fare solamente online, dando appunto una serie di incontri limitati, dove cerchiamo appunto di sostenere e aiutare le persone ad intraprendere un percorso per poter migliorare la loro situazione. Oltre a questo cerchiamo di progettare degli eventi di divulgazione per sensibilizzare proprio i nostri concittadini su un'educazione alla prevenzione di quelli che possono essere le diverse discriminazioni, attraverso appunto degli incontri, degli eventi. Abbiamo già fatto, anno scorso, grazie a Sara, abbiamo partecipato all'edizione precedente di Impronte Femminile, abbiamo trattato un tema a noi molto caro, che è la violenza sulle donne. Tra gli altri argomenti che abbiamo trattato, abbiamo fatto delle interviste, delle video interviste sulla DAD, sulla didattica a distanza, quindi un tema attualissimo e che riguarda i nostri ragazzi. E abbiamo in cantiere, insomma, altri progetti e vediamo come riusciremo poi a elaborarli appunto dopo questa ripartenza. Allora, ghosting e stalking sono due facce di una stessa medaglia, due comportamenti che creano malessere, due comportamenti opposti che comunque creano malessere, sono delle forme di abbandono assolutamente distruttivo. Anche questa è una forma di violenza psicologica. Forse è più noto lo stalking, diciamo che il ghosting è molto praticato ugualmente, ma è un po' la novità, forse perché è più silenzioso, sia nella maniera proprio stessa in cui si pone, perché ecco, raccontiamo ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta, cioè ghosting è proprio la sparizione della persona. Sì, noi nell'evento del 5 di maggio tratteremo appunto il tema del ghosting. Ci siamo un po' divertite nel titolo, attingendo appunto dallo slang giovanile, il titolo del nostro evento sarà appunto sei stato ghostato, non fare il sottone. Cosa vuol dire? Il ghosting è appunto, deriva dal termine ghost, fantasma e quindi sparire, scomparire da una relazione che può essere amicale, che può essere amorosa. Improvvisamente si bloccano i contatti, contatti telefonici, contatti via messaggi, attraverso i social network. Si sparisce drasticamente da una relazione e la vittima si trova, chiamiamola così, la vittima, il partner abbandonato si trova effettivamente in una situazione che non, dove non comprende cosa sia successo, perché appunto si sparisce senza avere dei, delle avvisaglie, delle situazioni che possono far comprendere che si è arrivati alla fine di una relazione. Diciamo che il ghosting non è un nome scientifico, però è vero che è molto diffuso, ultimamente, in quest'ultimo periodo è molto diffuso, soprattutto tra i giovani. Infatti uno degli, diciamo così, aspetti di cui parleremo del ghosting è proprio la differenza che c'è tra la generazione X, la generazione nostra, anche quella un po' precedente, e i giovani, i chiamati millennials, che sono nati e immersi proprio nella comunicazione digitale, nell'online. Quindi, dottoressa, lei sta insinuando l'idea che comunque i social network abbiano avuto la loro importanza e la loro influenza in tal senso? Diciamo che la comunicazione online rispetto alla comunicazione di persona, e quindi in un incontro di persona noi possiamo cogliere quelle che sono le reazioni di chi ci sta di fronte. La comunicazione non verbale esprime molto, e quindi ci dà il limite entro quale ci possiamo arrivare. Quando invece si tratta di comunicazione online, è come se perdessimo un po' la responsabilità di quello che facciamo, di quello che diciamo, delle emozioni nostre e delle reazioni del nostro interlocutore. Faccio un esempio. Immaginiamo i ragazzi che sono online sui social, sono costantemente attivi sulle chat, sui messaggi, sui social, arrivano ad oltranza, perdono quasi il limite del tempo, e con un click riescono a scomparire. E questa è la facilità con cui, diciamo, la differenza più grande che si può avere tra una relazione online e una relazione invece in presenza. È un modo un po' per fuggire dalla responsabilità dell'affronto, però non è, se mi consente, un comportamento tipicamente adolescenziale, perché poi lo ritroviamo anche, insomma, negli adulti, queste sparizioni improvvise, ma sono più le vittime le donne o gli uomini? Cioè, chi pratica ghosting principalmente e perché lo fa? Ma diciamo che non c'è una prevalenza di genere. Certo è che alla base di una, alla base di questa modalità di comportamento c'è probabilmente una base psicologica. Infatti, con le colleghe andremo un po' ad analizzare un pochino più in dettaglio quale tipi di dinamiche relazionali si instaurano. In linea di massima è una relazione di tipo passivo-aggressivo. Andremo poi anche a analizzare ancora più a monte quali possono essere gli stili di attaccamento che possono poi riproporsi nelle relazioni da adulti. E quindi parliamo di attaccamento insicuro evitante. Quando si subisce ghosting, qual è l'atteggiamento più giusto, più adeguato da adottare per non soccombere? Dunque, analizzeremo anche questo aspetto, sia dal punto di vista di chi fa ghosting e chi lo subisce. Diciamo che le reazioni comuni possono essere di due tipologie. La vittima può decidere di accettare in un certo senso il comportamento del partner evitante e quindi in silenzio riesce a, diciamo così, recuperare la sua sofferenza. C'è invece chi non accetta la fine della relazione e vuole trovare una spiegazione a tutti i costi e allora incomincia a chiamare, a cercare informazioni quasi in maniera ossessiva. Penso per esempio a cercare di individuare tra gli amici per scoprire se il partner è stato online oppure no, se ha inviato dei messaggi, oppure ecco, in maniera ossessiva cercare il compagno per trovare una risposta. E questo a livelli, diciamo così, quando arriva a livelli molto elevati può essere anche un comportamento rischioso e pericoloso dal punto di vista legale perché sfociamo appunto nello stalking. Quindi chi subisce ghosting rischia poi di avere questa serie di comportamenti ripetuti ed intrusivi quasi nel volere, nel pretendere comunque una risposta alla fine di una relazione, insomma. Quindi lo stalking diventa poi quasi una conseguenza. Sì, in alcuni casi particolari. Infatti approfondiremo anche questo con la collega avvocato che ci parlerà appunto di che cos'è lo stalking, il cyberstalking, quali sono appunto le pene legate a questo fenomeno e poi daremo infine anche dei consigli sulle vittime appunto di stalking, come possono essere tutelate anche dal punto di vista giuridico. Bene, questo è il primo appuntamento di impronte del mese di maggio. Allora intanto grazie alla dottoressa Di Carlo dell'Associazione Giunone. Grazie. Il secondo appuntamento del mese di maggio vede protagonista un'altra ospite interessante, Sara. Un'ospite alla quale teniamo moltissimo e teniamo moltissimo anche al tema dell'approfondimento di questo secondo appuntamento di maggio che avrà il nostro ospite Elis Lane, la vicepresidente della regione Emilia-Romagna, molto impegnata su tutti i temi di grande attualità, quali l'agenda 2030, la transizione ecologica e saranno questi gli ambienti dedicati appunto a quel desiderio di approfondire l'ecologia integrale, obiettivo che si pone quest'anno in pronte femminili, che approfondiremo con lei e anche grazie alle sue riflessioni. Il terzo appuntamento invece vede protagonista la danza. Un bellissimo appuntamento che costruiamo insieme alla protagonista, alla mente diciamo che è qui con noi oggi, che è Monia, alla quale lavoriamo appunto dello scorso anno, poi dopo la pandemia ci ha messo un po' in difficoltà e abbiamo dovuto ripensare il programma come ben sapete, come ben sa chi ci segue, chi segue impronte femminili e abbiamo riportato invece su questo 2021, nella speranza che sia più fortunato, questo approfondimento e l'attività che Monia Mattioli con la sua associazione, con il suo progetto, sta portando avanti da diverso tempo nel nostro territorio. Quindi parleremo di danza inclusiva integrata, ma lo farei raccontare da lei che lo può fare meglio di me. Benvenuta allora intanto Monia, Monia Mattioli, insegnante, coreografa, presidente di questa associazione di cui parliamo, perché ci sono in ballo insomma tanti tanti progetti. Io partirei proprio dall'associazione, dire chi siete e che cosa fate. Intanto grazie per questo invito e grazie all'assessore Sara Cocchiarini che continuamente crea rete sul territorio e diciamo è un dialogo importante tra istituzioni ed associazioni privati come quella nostra. La nostra associazione nasce nel 2004 e nasce grazie al patrocinio dell'Università Theater School olandese di Amsterdam e il Dipartimento di Sviluppo della Nuova Danza, quindi nasce proprio con la prospettiva di portare in questo paese quelli che sono stati gli sviluppi intorno alla danza contemporanea, la metodologia della danza contemporanea e in particolare alla nuova danza contemporanea. Negli anni abbiamo creduto fortemente nel territorio, in quel territorio che molte volte è lasciato un po' ai margini, che è il territorio rurale e anche aree interne, quindi abbiamo iniziato a lavorare in paesi anche di mille abitanti. Nell'arco di questi 17 anni siamo riusciti a creare dei centri di aggregazione, dei poli culturali proprio specifici per l'educazione in teatro e danza contemporanea e non solo. Tra l'altro siamo anche orgogliosi che negli ultimi anni alcuni dei nostri allievi sono stati presi tra le migliori università europee, sono ragazzi che vengono da piccolissimi paesi di due o trecento abitanti, quindi è con grande orgoglio che finalmente i risultati si sono visti. Negli anni quindi abbiamo portato avanti questa ricerca e ci siamo dal 2018 affacciati su quello che è la danza, il teatro danza contemporaneo inclusivo, quindi accessibile a quelle persone che per funzionalità fisiche, mentali o sensoriali diciamo hanno un modo di vivere, di confrontarsi nel linguaggio della danza differente da quello che normalmente viene richiesto dai canoni nella danza accademica. Quindi abbiamo iniziato questo progetto che la comunità europea ci ha sostenuto assieme all'agenzia esecutiva EACEA, che è l'agenzia per la cultura e l'audiovisuale di Bruxelles, e abbiamo iniziato questa collaborazione con alcune istituzioni in Europa che come noi avevano iniziato questa ricerca, tra cui il Conservatorio di Danza di Alicante e la fondazione e impresa creativa The Garage di Norwich in Inghilterra. Questo progetto ha portato dei risultati importanti in quanto siamo riusciti a coinvolgere anche gran parte del territorio, cooperative, associazioni che normalmente lavorano con persone diversamente abili e che per la prima volta si affacciavano a una possibilità di lavorare in un percorso creativo e artistico che non è mai esplorato prima. Nel 2021 abbiamo avuto di nuovo un riconoscimento dalla comunità europea per ampliare la ricerca e quindi orientarci verso un target di giovani, bambini e giovani in fascia d'età. L'Agenzia Nazionale Giovani Italiana è quella che sta sostenendo il progetto fino al 2023 e i partner sono partner europei di Francia, Spagna e Inghilterra. Quindi dal progetto europeo Erasmus, insomma, la danza e lo studio del movimento vengono proprio intesi come strumento di inclusione, diciamo, è un linguaggio universale. E a proposito di riconoscimenti, la tua associazione si è piazzata al secondo posto, insomma, recentemente, tra 100 progetti, insomma, il secondo posto è sicuramente un progetto ambizioso, insomma, in sé. E tra l'altro parlavamo di target, un target giovane, ma non è rivolto soltanto ai giovani. No, ecco, appunto, avendo iniziato anche nella prima parte della ricerca un target di adulti, diciamo, il linguaggio, la metodologia si rivolge a un gruppo eterogeneo, in età, di forme fisiche, di cultura. Tra l'altro l'ultimo progetto, per quanto riguarda l'inclusione, le altre organizzazioni partner non lavorano come nel nostro caso con persone con disfunzionalità fisiche, mentali o sensoriali, ma con l'inclusione verso quelle categorie come giovani con difficoltà di integrazione sociale, famiglie in povertà educativa e migranti. Quindi, ecco, diciamo, abbiamo ancora di più ampliato la possibilità e l'apertura di questo percorso, di questo linguaggio che è il teatro danza contemporaneo, anche con finalità inclusive più ampie. Quest'estate partirà da Pergola un festival, il festival di danza contemporanea e teatro, e sarà una sorta di festival itinerante. Sì, allora, intanto il festival di per sé è itinerante perché abbiamo scelto questo paese bellissimo dell'entroterra marchigiano, che è un borgo, insomma, medievale, per cui, diciamo, già in genere questi piccoli paesi sono delle residenze preziose per artisti o coreografi. Poi abbiamo anche messo sul tavolo di lavoro la possibilità, negli anni, di spostarci, in quanto il festival lo abbiamo progettato e pensato proprio con una forte accento sulla partecipazione giovanile e abbiamo incluso nell'organizzazione quattro istituti superiori della regione Marche, tra cui il liceo artistico Apolloni di Fano, il liceo artistico Mannucci di Fabriano, l'istituto Pansini turistico di Senigallia e il liceo scientifico di Pergola. Proprio perché vogliamo dare ai giovani la possibilità di essere protagonisti in qualcosa che poi, diciamo, sul territorio proseguirà e saranno loro poi, diciamo, i veri detentori, i veri protagonisti, insomma, delle future edizioni. E quindi non è escluso che i prossimi anni il festival, insomma, si sposterà in altri paesi. Lanciamo una sfida positiva e propositiva in un periodo come questo, insomma, quest'ultimo anno è stato un periodo di incertezze, adesso si riparte comunque tutti quanti con i buoni propositi, direi appunto di lanciare una sfida agli altri comuni, perché già, insomma, ce ne sono diversi che collaborano, giusto? Sì, noi, insomma, appunto da vari anni abbiamo il patrocinio e la collaborazione di altri comuni come Corinaldo, Serra dei Conti, Pergola, Frontone, insomma, Fano, quindi siamo ben lieti, insomma, di coltivare e di incentivare ancora di più questa rete di collaborazione dal basso e ancora rafforzare questo dialogo tra noi e le istituzioni, come nel caso, insomma, sta succedendo grazie al Festival Impronte Femminili, proprio perché crediamo che la sostenibilità della nostra comunità, ma anche dell'ambiente stesso, parta proprio da una collaborazione equa e, insomma, da parte di tutti. Grazie, Monia Mattioli, per essere stata con noi. Allora, Sara, continuiamo a vedere il nostro calendario, l'ultimo appuntamento del mese di maggio? L'ultimo appuntamento del mese di maggio è dedicato all'illustrazione d'artista ed è un appuntamento che abbiamo pensato in collaborazione con Isia, che, come voglio ricordare, è partner di questa quarta edizione di Impronte Femminili, ha collaborato con noi dando una veste grafica molto innovativa a tutti gli appuntamenti, all'ideazione, appunto, di un'impronta, diciamo, comunicativa completamente diversa, forse anche meno stereotipata, ed è un work in progress che inizia quest'anno con loro e porterà anche a evoluzioni successive nei prossimi anni, nelle prossime edizioni. Abbiamo deciso con loro di dedicare l'ultimo appuntamento online al tema dell'illustrazione perché abbiamo sempre dato grande importanza in questa rassegna all'illustrazione d'artista e al manifesto dell'illustrazione d'artista che già da solo in autonomia è capace di veicolare molti significati e molti simboli, cercando anche comunque di valorizzare nel tempo tante protagoniste del nostro territorio che molto spesso sono più note fuori che nel nostro territorio e quindi abbiamo voluto, diciamo, concludere, mettere la ciliegina sulla torta di questo ciclo di questi primi 13 appuntamenti online della parte di impronte appunto in diretta streaming con loro e con le artiste che saranno protagoniste insieme alla professoressa Silvana Sola che coordina e organizza questo appuntamento per parlare del lavoro nel tempo importante che Isia ha fatto e i grandi talenti che ha sfornato e poi, diciamo così, condiviso con non solo in Italia ma anche all'estero. Per cui un appuntamento importante. Voglio ricordare che questo appuntamento è in condivisione anche con il Comune di Urbino. come tutti gli appuntamenti online sono stati sposati, diciamo, e condivisi da questa rete di comuni con i quali il Comune di Fano che è il Comune di Capofila collabora. L'appuntamento di cui appena ha descritto Monia è in collaborazione con il Comune di Pergola mentre quello riferito al tema del ghosting di cui ci ha raccontato poco fa Arianna è sposato, patrocinato dal Comune di Apecchio e quindi ecco, anche qui, per collegarmi anche al discorso molto importante che faceva Monia c'è proprio il valore della rete di una rete che vuole lavorare insieme e costruire dei progetti di crescita culturale ed etica, direi, del nostro territorio e dei nostri concittadini e concittadine. Bene, prima dei saluti direi di ricordare naturalmente gli indirizzi, pagine Facebook e quant'altro per seguire gli eventi e poi ricordare che da giugno invece ritorneranno quelli in presenza. Il sito è improntefemminili.it trovate tutti i contenuti, tutti gli appuntamenti online anche i precedenti sia sul sito che sulle pagine Facebook o Instagram di Impronte Femminili ma anche sulla pagina YouTube quindi ci sono tre account social diversi e ci siamo, diciamo così, intrattenuti così in questo periodo nell'auspicio, insomma, che da giugno potremo poi tornare a vederci in presenza. Grazie allora all'assessora Sara Chiupchiarini per essere stata con noi Grazie a te Maria Grazie alle nostre ospiti a Riccardo Sora in regia e a tutti voi per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi